Salve amici del centro meteo italiano. Tempo per lo più stabile ma con fenomeni pomeridiani nei prossimi giorni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 28 luglio. Tempo stabile al mattino su tutta la penisola, addensamenti sparsi su Alpi, regioni di nord ovest e medio basso versante adriatico. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazioni temporali su Alpi e Appennino, generalmente più asciutto su costi e pianure. Inserate nottate a residui piogge su Piemonte, Alpi e Appennino centrale, ampie e schiarite altrove. Temperature minime e stabili o in calo specie al centro sud, massime e lieve rialzo soprattutto al nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano. Grazie a tutti.